che ha sempre voluto soltanto cose giuste che andassero bene per tutti che non trovassero e chiamassero le donne va bene adesso vieni 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 damonile certo allora questi sono i giovanotti con cui io penso di fare ancora molta strada come vedete dalle facce sono dei giovanotti veri togliete le coltelle invece sono 60 anni che siamo insieme e quindi eccoci qua fate le foto vittorio togli i coltelli vittorio tu non venire con noi c'è una certa fuori dalle palle ci sono vittorio ma che cazzo mi confuso la giacca che appado allora signori questo è Matteo Salvini l'unico leader vero che c'è in Italia Lui è sincero, per questo lo ammiro e gli voglio molto bene, è una persona sincera, cosa più politica non esiste. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.